All'interno del cuore, all'interno dei vasi, con la possibilità di fare una ricostruzione anche 3D, quindi riusciamo a vedere in tre dimensioni tutto l'apparato cardiotorico-vascolare. Il lettino, come vedete, è un lettino particolare, fatto in carbonio, che permette naturalmente la visione, quindi il passaggio delle radiazioni, dei raggi, per poter visionare naturalmente tutto il corpo, quindi sono cose particolarissime. La ricostruzione che viene fatta delle immagini può essere confrontata con altre immagini che noi abbiamo preso con l'attacco, la risonanza magnetica, e quindi capire immediatamente dove andare a collocare l'eventuale protesi o l'eventuale pallorataria. Questo si muovono in tutte le direzioni. Queste sono gli angiografi che ci permettono di vedere naturalmente l'interno del corpo. Qua si può lavorare sia naturalmente come sala demodinamica, sia come sala chirurgica, sia naturalmente una sala integrata, quindi fare delle cose parzialmente attraverso catetere e parzialmente attraverso la chirurgia tradizionale.